come vi dicevo all'altro cortometraggio, l'altro shorter, adesso l'unico modo per liberarmi di questa erba e mettere vicino di rapa è quello di fare col modo zappa, tutte le radici vengono sollevate e si seccano, comunque la terra non va tanto male perché qui è in discesa e si è asciugata, basta un giorno di sole e si è asciugata, adesso vi faccio vedere come va bene, guardate, non è che ve l'ho in mente questa, una mano recco 160, una onda, questa è una bestia, l'f660, c'è la trasmissione della ciglia, guarda la potenza, guardate, io non l'ho comprato accoglienti delle ruote, delle ruote che mi hanno andato a montare molti modi, questo l'ho avuto solo con la portata, adesso l'ho avuto a prendere, non è che ve lo l'acqua, 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 si è salto, ma magari ve lo faccio tutto, così, vedo a uscire, dai . guardate che non la vado da te pensate che una sola mano ecco questa è la mano che ti ho letto ecco qui sta direzionato vedete qui e si ferma questa parte la metà si ferma la gente e va avanti non lo vedo ma come che ci vado non lo vedo 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 appena sono arrivato alla fine mi spiego questa cosa non lo vedo ma non lo vedo 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 è una parella un po' che è pronta si ha messo dalle moglie un cancro d' amore si è molto bella mi hanno colpitiato e un cacchetto mi piace mi piace non piace mi piace nulla è un cacchetto c'è quello è stato brato ma che ci fa lo vedo non si sa che non vogliamo agire la spazio è qua e poi il volo di portava il volo di portava e poi il volo di portava e poi 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 ecco qua ecco qua ecco qua vedete vedete ok allora prossimo video grazie 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 grazie